Per il secondo anno consecutivo l'ennesed Davide Diddio è stato selezionato tra i pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo, la location esclusiva che accoglierà cantanti, vippe, addetti ai lavori durante il Festival della Canzone Italiana e che vedrà protagoniste anche le eccellenze gastronomiche. Una grande soddisfazione e merito anche ringraziando tutto il mio staff, vuol dire che abbiamo lavorato parecchio bene. Un'emozione forte e una curiosità perché rispetto all'anno precedente, l'anno scorso avevamo delle restrizioni Covid, quest'anno sarà tutto aperto. Diddio è pronto a lasciare il segno all'appuntamento Sartre Mese e a promuovere il territorio siciliano ed ennese. Quest'anno ho in mente di portare due pizze, naturalmente sempre esclusivamente del nostro territorio, una significa di terra, una pizza che si chiama una pizza Sofia, la facciamo pure con un guangiale della nostra zona e l'altra la facciamo visto che ci troviamo a mare e andiamo su un gambero rosso e un tartufo.